Bella ragazzi, siamo qui con il post partito di Fiorentina-Milan, la partita non è ancora finita, manca un minuto e mezzo del recupero. In questo momento il Milan sta vincendo 1-0, non vorrei gufarla in nessun modo, però comunque buona partita del Milan, non ottima, perché si poteva fare di più, la Fiorentina comunque ha giocato la sua partita, però vittoria, merita, ci sta questa vittoria, perché diciamo che ci risolleva, seguiamo il filotto Champions con l'Atalanta e la Lazio che hanno vinto, quindi veramente un ottimo risultato, con anche più di qualche infortunato, oggi erano assenti Pacchietà, era assente Calabria, comunque qualcuno mancava e quindi un'ottima prestazione, anche perché la Fiorentina non veniva da un ottimo momento, bisognava sfruttare. Adesso arriviamo a due vittorie, due partite abbastanza semplici, una col Frosinone già retrocesso, una con la spalgia salva, quindi speriamo di far bene, adesso manca 30 secondi. La partita è stata decisa da Cialanoglu, finalmente decide una partita, veramente questa stagione tre gol stagionali, quindi veramente poco, assist di Suso, che si svegliano dalle tane. Adesso speriamo 10 secondi di attaccare la Fiorentina, vediamo la fine del match, allontana Romagnoli. Finisce qui, il Milan vince, a meno uno dall'Inter, a meno tre dall'Atalanta, rimane attaccato al filotto Champions. Sono veramente felice, perché bisognava vincere a tutti i costi e adesso speriamo in una sconfitta della Roma. Adesso parliamo un po' della sintesi della partita, primo tempo che parte meglio la Fiorentina, poi si sveglia il Milan dopo un quarto d'ora e attacca fino a fine primo tempo, fin quando non è Cialanoglu. fine secondo tempo, è un dominio del gran gioco, comunque fatto sta che nessuna delle due domina. Gioca a sprazio meglio il Milan, a sprazio meglio la Fiorentina, cioè la Fiorentina attacca leggermente di più per trovare via del pareggio, il Milan cerca di difendere palla, comunque mai un vero grosso rischio da gol per il Milan, da subire per il Milan. E quindi veramente ottima partita, continuiamo così, adesso altri sei punti. Andiamo migliore in campo, per fortuna premio Cialanoglu, con un gol non troppo semplice. Peggiore in campo del Milan si può dire... Bah, chi può dirlo? Borini no, Borini ha giocato... Rodriguez, Rodriguez non si è visto tanto, ha fatto scappare due o tre volte l'uomo. Mentre il migliore in campo della Fiorentina assolutamente Chiesa che dà sempre il tutto per tutto, mentre peggiori in campo direi Laurini che si è fatto ammonire su un'azione che poteva diventare anche rigore. Niente ragazzi, questo video è qua, sono veramente felice per il Milan, iscrivetevi al canale, seguiti su Instagram, mettete like, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!